Ciao a tutti, sono Luigi Russo, ho 35 anni, nella vita sono militare e attualmente sono impiegato presso lo Stato Maggiore della Maria Militaria Italiana. Sono iscritto al Movimento 5 Stelle da un anno. Mi trovo al corticciolo capo serie di Formia, alle mie spalle potete vedere l'anfiteriato romano e come in tanti altri luoghi di interesse turistico e culturale della città, non è presente nemmeno l'indicazione dell'ora di apertura del luogo. Mi candidato alla lista del Movimento 5 Stelle di Formia perché avevo in testo un'idea di turismo diverso.